Ben ritrovati cari amici radioscoltatori di Radiopotenza Centrale all'interno del nostro contenitore informativo Comunicare per Cambiare, un modo per orientare le politiche comunali, provinciali e regionali verso i reali problemi della gente per l'attuazione del bene comune. E all'interno di queste nostre trasmissioni abbiamo il piacere di avere nostro ospite nella rubrica Pensa alla Salute, il dottor Ambrogio Carpentieri. A te la linea dottore. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti i radioscoltatori. Riprendiamo il nostro percorso iniziato la scorsa settimana con la rubrica Pensa alla Salute, per parlare di una malattia che indebolisce il fisico e la mente, che intristisce, caratterizzata da perdita di appetito e di peso, disturbi del sonno, perdita di piacere per le cose, facile stanchezza, disinteresse, tendenza all'isolamento e bassa autostima. Sì, avete capito, la depressione. Colpisce il 5% della popolazione italiana, sia giovani e adolescenti che anziani, e si presenta con soli episodi di depressione, oppure alterna fasi di malinconia e fasi maniacali. Nel cervello si attiva un vero e proprio freno, per cui il depresso vede la vita in bianco e nero, mai a colori. Addirittura la depressione si manifesta anche dopo oltre 10 anni di sintomi cosiddetti di allarme, la stanchezza, le alterazioni mestruali, sensazioni insolite localizzate all'addome, al torace, alla testa, con indolenzimento o dolore vero e proprio, in varie parti del corpo, bocca secca, difficoltà respiratorie, e molto spesso potrebbero essere eseguite indagini infruttuose, costose e fastidiose. Ma perché succede tutto questo? Non posso dare una risposta puntuale, ma è certo che il conflitto principale nasce tra una società che impone le sue regole, i suoi ritmi e il comportamento di ciascuno di noi. L'individuo ha dovuto adattarsi a cambiamenti ambientali e sociali, ma questo è avvenuto nel corso di millenni. Invece, solo negli ultimi anni, i cambiamenti sono stati velocissimi. In Italia siamo passati da una civiltà contadina a quella industriale, alle forme esasperate di competitività. Il tempo non è più sufficiente e la nostra capacità di adattamento è messa a dura prova. I giovani più fragili non riescono a tenere il passo con l'evoluzione della società. Spesso vi è un bisogno improvviso addirittura di alcol e di droga. Altre volte, una separazione, un divorzio, la perdita di una persona cara, la morte improvvisa di un amico e addirittura situazioni positive come una promozione, un aumento di responsabilità, una grande gioia, possono scatenare la malattia depressiva. Anche il manager o l'uomo di successo può cadere in depressione, nel caso di una sconfitta o per il venir meno del consenso. Il bambino diventa solitario, scontroso, asociale, perde ogni vivacità e interesse. D'altra parte, la gravidanza tiene al riparo dalla depressione, perché il cervello è inondato da ormoni steroidi, dal potente effetto ansiolitico e antidepressivo. Però, dopo il parto, i sintomi si ripresentano. Le stagioni critiche sono la primavera e l'autunno. La parte critica della giornata è il risveglio. Si inizia a stare bene verso le 6-7 di sera. Dura 4-6 mesi, ma può anche cronicizzare. E allora corriamo ai ripari, sotto controllo del proprio medico curante o specialista, nelle formi lievi con la psicoterapia, che ha anche sostegno e rassicurazione. Nei casi lievi moderati, con gli antidepressivi, che agiscono in modo particolare sul neurotrasmettitore del cervello, che è la serotonina. Nei casi gravissimi, ancora oggi è valida la terapia elettroconvulsiva, il cosiddetto elettroshock, scoperta da due medici italiani. Grazie per l'ascolto dal dottore Carpentieri e vi do appuntamento alla prossima settimana. E come sempre, diamo valore alla nostra vita.